www.feyyaz.tv 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 Se può sapere che c'hai in quella testa vuota te? Che fa' te? Sta zitta! Mannaggia! Tu pensa a portare i soldi a casa da una mano a sti incapace di tua madre? Se può sapere perché questo è il primo giorno via più da me? Quello è uomo, no? Alla fine dei conti devi hai una brava donna di casa Perché mi hai levato le mani? Non gliela vuoi meno sempre Se no si abitua Una Ma forte Hai visto gli americani quanto sono belli? C'hanno tutti i denti Ma tanti Più di noi lo sa Tutti dovete schiattare Perché mi piace sposare un signore e non un pezzente come voi Ammiserabili Se penso che quando te ne andrei non ci sarà più una donna da entra a sta casa Me ne vento ogni mattina da trent'anni Lo so distratto un attimo e quello ti sei rubata L'uomo tu devi scegliere bene eh? Giulio è quello giusto? Ma non lo so, dimmi lo te E tu sei scelto bene Che c'è da guardare? Non ci devi andare più Laura E chi ti ha detto? Lo dico io Tu sei mia Sono un po' dei mesi che mi rubo qualche sordo dai lavoretti mia Non ho capito come rubi Sono i sordi tua Ci sta la posta E per voi Pensa ai figli Pensa a Marcella E' proprio a lei che penso Ma perché ti fai trattare così? Ma che vuol dire? Com'è capito io? Deve rossa il tempo Quando sei Anna? Pure di Anna Segui